Ciao a tutti, oggi proveremo ad usare i prodotti Easy Marble della Marabu. Allora, prendo una bacinella d'acqua, prendo i miei colori, verso alcune gocce, un po' di bianco e un po' di rosso, qualche goccia di rosso, giro con uno stecchino qualcosa, creo l'effetto marmorizzato e poi molto velocemente appoggio un pezzo di carta magari anche fotografica, tolgo fuori ed ecco l'effetto marmorizzato. Faccio anche questo pezzetto qua. Proviamo su un pezzo di canvas, ecco qua l'effetto, oppure su un pezzo di libro col gesso, ecco qua l'effetto marmorizzato anche sul gesso. Proviamo con altri colori, il blu, il verde e un tocco di giallo. misceliamo per ottenere il marmorizzato e poi proviamo con una scatolina. Ecco qua l'effetto, lo faccio su tutti i lati, poi così e così. L'effetto è proprio immediato e bellissimo. Grazie. 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 Grazie.